Il mio ricordo è ormai da anni sempre lo stesso, anche se mi piacerebbe ricordare una danza dentro alla pancia di mia mamma, perché era una danzatrice quando io sono nata. Il primo ricordo visivo che ho è quello di una sua produzione, quando ancora aveva la compagnia che circuitava, e ricordo che arrivai piccolissima nella sala prove e mi ritrovai in un mondo completamente diverso, era pieno di luci, di musica, di stoffe, di movimenti, e mi è sembrato per la prima volta di entrare dentro ad un mondo che nonostante vivessi tutti i giorni a casa era completamente diverso. In questo momento della mia crescita, farei il primo movimento, chiuderei gli occhi, il secondo lascerei andare a respiro, e il terzo aprirei le braccia e starei ad ascoltare. In questo momento la colonna sarora che preferisco è il rumore del vento dentro alle foglie, però se devo proprio scegliere una musica che in questo momento mi lascia andare, scelgo una cosa veramente commerciale, che è una delle ultime canzoni di Lana del Rei. Adesso sceglierei Roberto Casarotto e farei un bel balletto qui sotto la loggia della villa con lui, perché ci fa sempre danzare tutti quanti e sarebbe giusto trovare un momento per danzare anche con lui. Grazie.